Tanti turisti che sono tornati a Salerno, ma la città deve fare i conti con spiagge, mare, sporchi e degrado nei quartieri. I cittadini e i microfoni di Otto Channel lamentano l'incuri e l'abbandono proprio sotto agli occhi dei visitatori. La città è molto sporca, non se ne può proprio più. Ci sono le, come si chiamano, quelle blatte che volano dappertutto. Non possiamo aprire una finestra che ci troviamo attaccate alle tende, ma proprio le strade che sono sporche, inutili che passa quel camion la mattina. Ci sono queste scale qua sopra, che salgono i turisti per andare al Duomo e al Museo. È una cosa proprio vergognosa. È inutile che poi fanno le passerelle elettorali. Fai schifo solo a raccontarli. Se si andrà a bucci sui casi là, lo barco in giro là, lo primo piano. Ma si senta proprio una cosa tremenda. Ogni mattina c'erano varie sacchetti di monnessi. Parecchio sporca la città. Rispetto al passato, rispetto a quando De Luca proprio era sindaco, la città purtroppo ha conosciuto tempi migliori, sicuramente. È molto sporca, gli spazzini non ne vediamo oggi. Ma non vedo proprio pulizia. La città si sente l'odore dell'immondizia. C'è chi parla poi di come Salerno viva proprio anni di decadenza. Mancano tutti i servizi. Su un decantennio che è in decadenza. Perché è questione di civiltà. Quando c'è il regresso, c'è inciviltà. Cioè aumentano tutti i fattori.